Sì, per un'azione di me ne è un'unica di me, ma sulle figure che abbiamo fatto, nel concorso, dovevi dire che possiamo sbagliare in 4.3. Se si riferisce a tutti, quindi, no, all'usione gastronomico, inerente, le attività di bilancio del cuore. Cosa possono parlare di altre attività, per curare la sessore della peste, la sessore della cultura? Qua! Ma che può essere, di più, 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 di più. Ma sono le cose che vengono, sempre a un numero, le faccio vedere. Come mi faccio vedere tutto, 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 tutto. E ci dirians. E ci dirianetti, ci dirianetti, ci dirianetti! Escrichiamo tutti, ci dirianetti, ci dirianetti ma hanno fatto.